La stagione calcistica 70-71 si è iniziata male per i campioni d'Italia del Cagliari che a Livorno nel primo turno di Coppa Italia sono stati nettamente sconfitti per 2-0. I tirrenici sono passati in vantaggio a 10 minuti dal termine quando il terzino Unere è riuscito a battere Albertusi. Il secondo gol è giunto quasi allo scadere per merito dell'ala destra Martini. Con questa sconfitta il Cagliari ha compromesso le sue possibilità di qualificarsi per i quarti di finale della Coppa Italia ma nel mese che manca all'inizio del campionato, la squadra di Scopigno ha tutto il tempo per riguadagnare la migliore forma e per confermarsi degna del titolo recentemente conquistato.